Vi porto con me la mia proclamazione di laurea, questo era il giorno prima perché dovevo fare i capelli Sono andata al salone Hair Bar in Porta Nuova, dove Tommy ormai sa come rendere i miei capelli bellissimi Con queste pieghe naturali ma che durano tanto Seconda tappa, l'Aurus Milano, dove ho ordinato la mia coroncina Questa è stata la mia reazione spontanea alla visione della corona per la prima volta Mi è piaciuta tantissimo, le foglie erano molto delicate, i fiorellini rosa davano quel senso di eleganza E anche il fiocco era spettacolare, io felicissima Ed eccomi il giorno dopo, il giorno della proclamazione, mi sono svegliata e ho cominciato a fare skin care con mio fratello Una delle passioni che abbiamo in comune Poi ho iniziato a vestirmi, questo è il mio completo di laurea, un completo di twinset color bianconeve Con la giacca in dettaglio, la manica molto particolare E mi piaceva tantissimo Poi ho abbinato questo top per spezzare un po' e questi decoltè sempre di twinset Rosa antico con il dettaglio in oro Poi ho abbinato le due tesi con cui avrei fatto le foto Sempre rosa antico e rosa zucchero filato Poi mentre mi preparavo mio papà ha preso questo bouquet di fiori con questi colori Che si abbinavano perfettamente al completo Questo è l'outfit completo con tutti gli accessori Ho completato il tutto con un po' di lip gloss e poi ci siamo diretti verso l'università Una volta arrivati all'università, a noi laureati ci hanno spiegato come sarebbe stata la cerimonia E come dovevamo muoverci sul palco E poi è iniziato ufficialmente il graduation day Uno dei momenti più emozionanti della giornata C'erano tutti i genitori, gli amici che ci guardavano Usciti dall'aula è stato un momento di festeggiamenti, felicità, foto, realizzazione di quello che stava succedendo Poi abbiamo raggiunto tutti gli altri miei amici che si sono laureati con me Ed è stato un momento bellissimo di festeggiamenti Abbiamo brindato, abbiamo attraversato la porta centrale della Yulm, rito scaramantico Dopo ci siamo preparati per la festa che sarebbe stata la sera stessa Questo era il mio outfit, ho abbinato questi orecchini lunghi dorati Questo vestito a tubino lungo con i tacchi della proclamazione e anche la giacca Sono passata da Ti Piace, pasticceria dove ho ordinato la mia torta di laurea Loro per me sono una garanzia di qualità La torta era bellissima, c'era questo cappellino I frutti di bosco e il cioccolato, i miei gusti preferiti Con questa combo di tacchi e torta siamo arrivati al Bobino a Milano Un locale dove abbiamo festeggiato la laurea Ognuno di noi laureati aveva i propri divanetti e i propri invitati Il locale era davvero grandissimo E poi ci siamo divertiti tantissimo tra torta, musica, parenti che ballavano E' stato veramente un momento emozionante E qui poi abbiamo fatto la torta tutti insieme con le nostre coroncine Questo è stato il giorno della proclamazione Spero che il video vi sia piaciuto